Prima, seconda, terza, quarta, quarta, quinta, sesto, sentire, sentire, adesso, adesso la prossima, e adesso la facendo, vai, tu, ripi, bravo, ti aspetto il silenzio, ti chiamo, pronti? Allora, cappallone lo chiamo due volte, sesta, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, Quinta e sesta le chiamo due volte, quinta, sesta, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, Le tre grosse le chiamo due volte, quarta, quinta, sesta, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, Quinta, sesta, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, Le tre grosse le chiamo due volte, quinta, sesta, prima, seconda, terza, quinta, sesta, Quinta, sesta, prima, seconda, terza, quinta, sesta, quinta, sesta, prima, seconda, terza, quinta, sesta, Scala, 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 scala Quinta, sesta. Andiamo indietro, vediamo se riusciamo a farne un po' di più. Vai, tutti pronti. Tenete le proprie. E' un'errore di rovesci consecutivi. Esatto. Dieci. Sì, e poi ci cannone il campanile. Sesta. Quinta. Quarta. Terza. Seconda. Prima, sesta. Quinta. Quarta. Terza. Seconda. Prima, sesta. Quinta. Quarta. Terza. Seconda. Prima, quarta. Quinta. Sesta. ok, una scala dritta tu vai due volte la lascia andare due volte 50, ancora 3 minuti 3 minuti prima seconda terza quarta quinta sesso musica maestro mauriziane chiamala piccola e al gran via guardatevi sempre le mani ok, ok, bellissimo non guardi nessuno esatto, terzo, chiamo prima via chiamo la seconda le altre via seconda via chiamo la terza no, 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 solo una terza via piccole sì soprattutto quelle piccole via rifacciamo la terza via chiamo la quarta le altre via quarta via 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 ma tu hai sentito che devo guardare sentimi lui guarda lui guarda lui sì chiamo la quinta le altre via quinta via via questa è una grossa le riprendiamo e poi adesso le riprendiamo sì adesso facciamo con l'ambrogio quindi due e due volte e poi vogliamo in attacco sesta via adesso fai una scala le riprendiamo e poi le lasciamo adesso le riprendiamo facciamo un pari rispari rimolliamo in scala così va bene va bene pronti prima terza a quinta sesta seconda quarta sesta e poi lasciamo in scala prima seconda terza quarta quinta sesta sesta Sì No, fai così No, no, no Ma perché? Ma perché sì?